Questa palestra che non è una palestra vera e propria ma diremmo qualcosa che va a servizio sia della squadra che dei nostri sponsor. Questo perché ci permetterà di fare dei recuperi magari da qualche infortunio o di fare degli allenamenti a parte sulle trete che ne avranno bisogno soprattutto qualcosa che noi vogliamo coinvolgere con i nostri sponsor, tutti quelli che ci hanno sostenuto e di fatti da lì lo slogan sono sponsor di Serie A e che si allenino da Serie A. Questa è la filosofia nella Suma, c'è qualcos'altro che dobbiamo sapere che va detto? Sì, è una palestra un po' tipica per il nostro territorio perché ci si allenerà unicamente con di personal trainer su appuntamento quindi non va vista come una palestra tradizionale o una palestra aperta proprio a chiunque. Questo perché vogliamo dare la precedenza a chi ci ha sostenuto e chi ci ha dato fiducia fino ad oggi. Poi i particolari ve li diranno i preparatori. Allora, primo cittadino di San Pietro di Feletto, Maria Suntarizzo, anche lei ha la vernice di questa palestra che va ad integrare un'offerta sportiva, dico io, del vostro comune. Beh, io devo ringraziare la società sicuramente perché mancava in questo nostro territorio ed è un'opportunità che dà a tutti, anche qui in zona insomma. Lei è tifosa? Sì, devo dire, nel senso non partecipo alle manifestazioni, però devo dire che ci hanno dato molte, molte emozioni. Qui sei la persona, il padrone di casa mi hanno detto. Sì, diciamo che ho partecipato alla costruzione di questo nuovo progetto, è un progetto secondo me molto interessante che Rimoco sta facendo e sta portando avanti, quindi siamo contenti di essere qui finalmente all'inaugurazione. Poi hai due passi dal centro di Conlediano, posso dire così? Sì, sì, è vicinissimo, è facile da raggiungere, quindi anche logisticamente è un posto secondo me vincente da questo punto di vista. Ecco, preparatore atletico dell'Imoco, spiegaci cosa vuol dire nello specifico. Vuol dire che fondamentalmente io mi occupo di cercare di mettere le ragazze nella condizione migliore, lavoro insieme ovviamente tutto il resto dello staff per quello che riguarda la prevenzione degli infortuni, e la preparazione alle partite, diciamo che loro sono quelle che fanno sì che ci sia questo bellissimo show e noi cerchiamo di metterle nelle migliori condizioni possibili perché si esprimano al massimo. Questo è un po' il mio ruolo, insomma.